L'ANMIL di Rieti, associazione nazionale invalidi e mutilati di guerra, ha accolto a Rieti due ciclisti particolari. Si tratta di un progetto che prevede di realizzare un Giro d'Italia in bicicletta, in solitaria o con accompagnatore e senza assistenza, che toccherà tutte le regioni italiane in quattro anni, per una percorrenza complessiva di 6.169 km. Partiti da Viterbo, i due ciclisti sono arrivati a Rieti ancora carichi di energie. Testimonianza che la disabilità può diventare un'opportunità, come ha dichiarato Silvia dell'ANMIL di Rieti. Per promuovere un po' l'invalidità e la disabilità nel settore dello sport. Quindi l'invalidità non più come un momento di ferita e di cicatrice, ma come un'opportunità per poter scoprire un nuovo talento, anche e soprattutto nello sport. Il presidente dell'associazione di Campobasso Luigi Cantoro ha sottolineato il lavoro importante dell'ANMIL con un messaggio chiaro e forte. Siamo uguali agli altri, con forza e determinazione, volontà e costanza sempre. L'ANMIL è un'associazione che esiste dal 1943, nasce come ente di diritto pubblico e si trasforma nel 1979 come ente di diritto morale. Poi nel 2010 si siamo costituiti come patronato, adesso siamo anche patronato e caffè e diamo dei servizi gratuiti a tutti i nostri associati e con pochissime spese anche ai loro familiari.